Ciao, come va? Bene, come va? Eh, c'è lì d'necato, ma fa'ni, grazie. Bene, ho. Grazie. Bene, bene, beneissimo. Bene, bene, bene. Ecco qua. Io vorrei chiedere l'Eugenio, e l'Eugenio ha detto se vuoi una cosa? Io non ho avuto se sp sebelum' la stessa, cosa vuoi la stessa? Ho avuto il sole, non c'è male? Grazie. È buco, sì sì. Ok, non c'è male. Abbastanza bene. Abbastanza, oggi è piuttosto, è è il primo che e ce è il primo. Quindi, questo è il primo. È il primo, con il primo, con il secondo, con il secondo. Il troisième è il proprio non c'è male. Il secondo, con il secondo, con il secondo. Abbastanza bene, piuttosto bene ote sembra bene e chiaramente, sono più abbastanza bene è cattive, molto barruarte è la sostanza ok è anche meglio o come abbastanza bene, piuttosto bene se io vedo il soprattutto abbastanza bene, abbastanza bene, oppure piuttosto bene, abbastanza bene, non c'è male, non c'è male, grazie. 好,所以3跟4基本上是差不多 那上意大利文課老師不要聽到的回答是甚麼? mane,為什麼? 那非常不好是甚麼? malissimo,有benissimo又malissimo,都是父子,對嗎? mane, bene, benissimo, male, malissimo, ok? really bad, very bad, 為甚麼不好? 因為上意大利文課都不好的東西放在門外 好,所以要快樂的來上課 對,是最高級,對對對,沒關係 這個是在意大利文2正式的會學得到 好,先,反正你可以,對,可以觀察一下 issimo,issima,issimi,issime 是一個,是融合的結尾 可是這個是一個副詞,好 就是沒有變化 bene,benissimo,male,malissimo OK? OK? 第一次練習 第一次練習 是154,對嗎? 154頁 Ecco bene, pagina 154, pagina 154, tre parole evidenziate nel primo testo sono state scambiate con tre parole evidenziate nel secondo testo, rimettile in ordine come nell'esempio. Palermo e Firenze, una casa contro l'inquinamento, una casa contro l'inquinamento, una pizza contro l'inquinamento. Ok, ora 9, lungomare. Ok, qui? Che puoi con noi? Appuntamento al mare, non piazza ma mare, vero? Ok,對,要做什麼? 在這個練習題要做什麼? 要交換,然後要一些單字, ok? 所以appuntamento al mare. 這個就是那個傳單,我們上一次看的傳單的內容,一模一樣的,這就是,如果你的文法還不夠,還是不是從文法可以判斷,這裡是錯的,你就還是可以參考我們上一次的傳單. 好,appuntamento al mare. 跟你們的shadowin一樣的,我再強調一下你們的發音,appuntamento,這個字,不是appuntamento? 後面的,後面的那個,我生的字,因T,請你們多少寵企,為了避免,變成有生的,變成的. 所以appuntamento,appuntamento,appuntamento,appuntamento,appuntamento. Appuntamento. Appuntamento. Appuntamento al mare. Appuntamento. Appuntamento. Pizza e bambini. Che c'è? Pizza e vino. Bravo. Pizza e vino. Come? Con l'associazione. Con l'associazione. Buongiorno Natura. Buongiorno Natura. Ok. Serafina? Firenze. Giornata in? Giornate in piazza. In piazza. Sì. In piazza. Ore 14, piazza dalla piccola. Ok. Per grandi e bambini. Benissimo. Una giornata di appuntamenti contro l'inquinamento a cura della casa dello studente. Casa. Casa dello studente. Ok. Ok. Alla prossima. 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 Parma. Alla prossima. 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 Coni cavalli. con i cavalli. con i cavalli. con i, con i, con i, pisa. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sud. Alla prossima. Alla prossima. le antiche. le case. scavate. nella roccia. Lecce è una piccola e vivace cittadina della Puglia, famosa per le costruzioni in stile barocco. Quindi, la città della Puglia non è solo la Roma, di Firenze e Venezia, ci sono delle scelte, ci sono delle scelte che si sono più importanti ci sono delle scelte di Roma, di Firenze e Venezia, ci sono delle scelte che ci sono state che ci sono state, mentre ci sono state state, come si dice? come dice? Da visitare, ok. Dà加原型動詞 come dire? To be visited. That should be visited. Ok? That should be visited. Dà加原型動詞 Ok? Dà這個簡细词加原型動詞的意思 平常是 that should be, that could be, that should be. 你看是一個被動式的意思 See? 為什麼要 son? 可以, perché ci sono? 這個 sono? 而且前面是 moltissime 第一人稱不太好 這個是複数的 ok,我了解你的問題, sorry 哈哈,因為我們還沒有學 四動詞的六個人稱 我們只有學前三個人稱,對不對? 所以你的問題是 這裡好像是第一人稱的變化 這邊上這個是第六人稱的 就是第三人稱複數的他們的變化 ok,所以順便教你們一下 我們把那個SRE動詞的 或者你們參考Página第四課 我們明天開始上第四個單元 好,35頁 35課本,35頁有一個表,對不對? 有SRE,AVERE跟ANDARE的 我們,你們,他們的變化 ok,那個複數的人稱的變化 ру呃,我們, שא�,你們, 你們, siete,他們,算但,算 我們,啦 mi sei, ta è, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono, loro sono. Andre, poi sui che ho tratato con l'� interesanteanza, con ti solamente, poi siamo. Lì tutto il l'interno dell' Until eben l'interno della epoca e non per unestro e qui sono rid water, Poi d' wichtiger punto da questa, qui si entratutto il patients, e poi vi faccio una seconda una seconda la Rebecca e la助ca e la parola con voi vi raccontare un sacco di un sacco di una scena ora faccio il testo 155 di testo questi nomi dove che farò l'altro e poi farò la loro dall'esposizione. Il discorso di un microfono qui è l'ultimo, l'ultimo è che citta, citta città è l'esposizione. Citta è l'esposizione, cioè il quale è la loro dalla sua città? Citta. Arte. Arte è già già in nome della sua città. Il Signore è A. Hanno già trovato il sito di l' psichicowe, un'especiale superato. Art è un'especiale, Plurale è qualcosa? Arti. Cultura è già trovato il sito di l' psichico al capítulo82. È un'especiale superato per il sito che è un espo. cultura, plurale, culture, benissimo, palazzi, palazzi, dove lo mettiamo, palazzi fanzai Dì, 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 D Capitale, dove la mettiamo? Di I, Di I e Di I? Di I, Di I, Di I, Di I, Di I. Capitale. 你放在第二個表格還是? 你放在哪一個表格? 第一個表格是結尾是O, A. 第二個表格是Inomi in E. 第三個表格是Inomi in A con la cento, OK? 那那個La Capitale你放在第二個表格 第二個表格Inomi in E, OK? A的結尾, OK? 它是隱性的還是養性的呢? Maschile o femenile? La Capitale, OK? 首都是La Capitale. 資本是I Capitale. La Capitale,對 所以有養性跟隱性的這個字, 我看養性的是資本啊 或者那個... 資本,資本主義的資本 那首都是La Capitale,是隱性的, OK? 這個字有兩個形式 一個養性跟隱性的, OK? 那隱性的意思是首都的意思, OK? 所以是隱性的 因為這邊有一個定管詞喔 是隱性的定管詞 所以Roma是... 對不起,這個Parma是音樂跟食品的首都 跟美食的首都 好,所以就... Capitale放在第二個條格 然後是隱性的 所以放在Femmina的下面 當數 Ludovico它的副數是什麼? 如果是... 首都的副數 Capitale 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 好 好 再來... 下一個字過來 Domenico Domenico Music Music Ju yinzai Mu Music OK Fensei 1,2,3 1 1 Femminile o maschile? Femminile OK Danshu還是Fushu? Tashe Singolare Singolare E il plurale qual è? Uidice 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 A A A A 可能沒有注意到我放的這個... Ka跟Ga結尾的名詞或者形容詞 Fushu通通都是ke或者ge 所以Ami Ka一定是Ami Ka Lunga一定是Lungge Muzi Ka一定是Muzi Ke Suzi Suzi Muzi Ke Muzi Ke OK Ka 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 記得OK 隱形的Ka或者Ga結尾的複數變成Ka或者Ka 保持這個硬的讀法Ka Yang性的比較複雜了 我們等一下會看 所以我先給你們這個東西 你們先注意一下一些狀況 所以Yang性 可是Yang性的不用想Fush 一定是保留這個硬的讀法Ka 那就是Ka Ga 那就是Ga Ka Ke Ga Ga OK Vu可能變成Ce或者Ge 好吧呢 Feminine Ka都變成Ka Ga都變成Ge Ga 這個是它的發音 那它的頻寫它的那個 頻寫那個怎麼寫呢 Ci A Ci A Ka E G A Ka E Ga 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 o dire divisione? können �utze in una harina dante nationalità moltissimo nell noises ¿verdir Su? qui è ver Dat mean, del skip è vero,Shua è la tariffa è un paoto è un paoto èeti di quattro è il mare, è singolare o plurale, è singolare, è il mare, è il mare, è il montagna, è il montagna, dove lo mettiamo Silvia? Uno, due, tre, uno, è femminile o maschile? è femminile ok, la casa del fushu come dice? sì montagne montagne non è giusto montagna, montagne mosaici i mosaici Adriana mosaici i mosaici uno mosaico mosaico mosaici il mosaico i mosaici milva chiese uno in sing de da ma ta si dan su si fushu fushu ta de dan su si chiese chiese cacavalli Evelina scusami. La mia riflessione è una lingua? C'è un linguaggio che diceva money. Serafina? Serafina è sotto l'esclusione di serve. Evelina scusami. Evelina è sotto l'esclusione di serve. Evelina è una lingua di serve. 33 trentini, andarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Chi è che trotterella? I cavalli. Il cavallo, sì, ma... Ok, i cavalli. Sui cavalli, Sanza, è uno, due, tre. Uno. Il cavallo. Mondo. Uno, due, tre. Uno. Maschile. Sì. Fushu. Sommasho. Mondi, va bene. Torre. Uno, due, tre. Tare. Tare. Due. E的结尾, torresi. Della, torre. Serve come è fin sertina. Tore. Torri, torri, un'haode, zè, lienzi R, ok, gloria, santo, shan ren, uno, singolare, maschile singolare, tate fushu bien, santi, benissimo, centro, uno, maschile, tate fushu bien, sen, centri, pizza, uno, pizze, pomodoro, 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 pomodoro e mozzarela, ok, pomodoro e mozzarela, ok, mozzarela, è un'新鮮 di ciù, non lo che fare non è molto molto, una settimana a tutti i giorni, una settimana a tutti i giorni. In Taiwan si può comprare, ma non si può comprare. Non si può comprare molto tardi. E' piuttosto che è piuttosto. Molto è piuttosto, Cosa? 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 Cosa con la forma di formaggio più清 parole? Cosa? Cosa con i stampi? P�ol Padzo ha importante contrastato sul pobun that way. In Google sigue a potente con i stampi, non si se mette innato solo solo su badge inảiache a prondition. Spermaggio è piuttosto più cal22. si si voglia diкаzzi ma chiamati perché non c'è un'acquava ma non c'è un'acqua qualcosa e non c'è un'acqua è un'acqua una notizia In Italia, non è un po' di più. Bocca sui. Non posso dire. Posso dire. Ma qui si può dire come formaggio? Il nostro nome è formaggio, il nostro nome è formaggio e ci sono diverse種類. Mozzarele è formaggio un tipo di formaggio Il nostro nome è parmigiano e mozzarele. Ella, ho molti molti diversi, ok? Ok? Quindi, inoltre, ho molti diversi. Quindi, anche con il formaggio, il formaggio. È formaggio. Il formaggio, anche con il formaggio. Il formaggio, anche con il formaggio. Elena? Plurale? 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 Pomodori. Pomodori, ok. Mozzarella? Uno. Uno. Plurale? Come? Mozzarella de fuchu? Ah, femminile. Sì, scusami. Femminile, sì. Mozzarella. Mozzarella. Perfetto. Ok. Gregorio. Case? Uno. Due. Casi? Casi? Femminile? Antiche case. Ah, sorry. Uno. Uno. Femminile. 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 È maschile? È maschile? Sicura? È maschile? Ah, il gruppo secondo. Ok, il gruppo secondo. è femminile, c'è scritto le costruzioni, è un'inxin-foushù di定管子, e allora, 我告訴你, 所有的 zioni-结尾的名字都是 inxin的, ok? zioni-结尾的名字都是 inxin的, 小小的技巧, 所有的 zioni, zioni-结尾的名字都是 inxin的, ok, grazie, costruzione- costruzioni, zioni-结尾的名字都是 inxin的, 156 页, 還有, 幾個吧, i, studenti, 那這裡要寫什麼? i, 打配复述, 對不對? i,是一個定管子, 复述的定管子, 所以要打配什麼? i, alice, i, studenti delle sette, 這裡是打書還是复述這個大學? universitas, universitas, 寻书, 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 很好, 然后, ore 22, centro storico, 然后, canzone, 寻书, 寻书, i, gruppi, di musica popolare, cantano e suonano, nelle, fušù, strade, e nelle piacze della città ok Per cui la città della città Ora che noi abbiamo commuto un quadro inoporosa città della città e nelle piacze della città ogni settimana già che già già chiamo e poi c'è che già chiamo la chiamo perché ha bene le chiamo poi tutti i più adorati questa chiamo la chiamo più oltre più oltre che prima della chiamo è lì la chiamo è una cosa più oltre è una cosa più oltre maare il signo è un signo così ad un signo e anche l'e come l'amico o che è il signo è la mica allora la mica la mica è il signo è il signo RIO LAMIGA LAMIGA ベra LIA MIKO LA MIKO LA MIKO LA MIKO loro perché C? S letz e rus ris si est Table quello che era avevado così come così no whno v la medicina i no la Cosa è la S già di zettia? Oscar. Orca delle cremellie. Cosa è la Cosa sinistra? L'ho L'he dei modi. Corso che il suo 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 contesto. E'loge Z. Poi, nel momento... di stazione di un'nessorno che ce n'abbiamo. Il nostro nostro coro è iliale di che... 让你们开始应用这个 那么上一次也学了一些数字, 的吗? 30-100的数字 然后要注意到的是什么? 51-58的发音 然后要 60-70 gi的发音, で不对? 因为60-70 gi 也很容易搞混的 意大利人自己也会 60-70以为 65-75 你说3-5 Renaissance ma è stata attended, ciò scholarships fatto un successo di domenio, lo volte non vuole. Quindi, anche se saranno il successo. Le boxo o indignato sicuramente, questo è proprio una formazione dell'euro, questo è stato chiaramente chiamato in pagina di pagina, di quattro di 123 orecchiet. 23 orecchiet. 223 orecchiet. Quindi, vi ringrazio di queste cose, possiamo anche di ricerciare un'occhi, ma non è un'occhiare un'occhiare. Ma non è un'occhiare un'occhiare, ma non è un'occhiare un'occhiare un'occhiare. Quindi, possiamo anche di ricerciare un'occhiare. per con il con il con il האל anche пер, le tra, la con il non sia una scuola, non è una scuola di un ruolo, ok? Sì, questeなんですi Noi a lo stesso, quindi noi a lo stesso la ne prendiamo a una scuola di domani tutto il rio, il rio di domani Sedi, da, 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 da. Da, 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 da! Cero di domani dunia, il rio cio, tutto il rio cio, tutto il certo E' un'unico a un'unico aiuto, là un'unico a un'unico al punto che aveva il центр. La un'unico albertura, è un'unico alla che scoglie. E' un'unico alvoi di un'unico al primo luogo aveva anche un'unico al di nuovo, il nome di più obi e di questo secco. Quindi questo è un'unico di uno di una ricetta. che ciò che è arrivato il punto, a quello che ciò che è venuto a tutti i centrioi e anche si sta arrivare alla fine della base del personale. Questa è arrivata alla fine del personale, il che fa diventa diventerà in particolare. Qui ha avuto la signora, la simona, la sinona, la tensione del personale, la sensazione del personale. Quindi tutte queste tipologiche sono arrivato al personale, Ok? Io tengo un po' di tempo, oltre di tempo. Questo ciò che dice vostra, una forma di giustizia. Grandi maatu per faccio, e vi voglio che avete guardato. È la fine del dirigeato del dirigeo. Questo è il nostro parvenuto del dirigeo. Sto dicendo a la sezione di defic woh. La nostra parvenuta è una strana di dirigeo. Questa è una strana di dirigeo. Questa è la strana di dirigeo, come i nomi ine c'è qualche caso, non evitare di stesso tempo e di 해도 di一些 C passo' gli studi Valenti ed Ovissato non internhem limpi scotto' gli studi Valenti tutti i studi Valenti ma perché i ragazzi dei traduc risultati Dato正ITO ma per tanto, questo è una sortaa acia il signo in terminolo che hanno fatto un signo sia una direzione quindi per city come R世界 purgmaybe il nazionismo oi sei ho l'unico dolore della storia Nadegle Dadegle Davide Aliche no so nilache nilamo quindi can t'è nilamo e ma la c'è nilamo vò d'è vedere non lo so, non lo so, non lo so. E'olio, è un po' di ansia, è un po' di ansia. E' un po' di ansia. Allo, per te viaggi, ho messo a te viaggiare questo libro, per te viaggiare questo, per te viaggiare il corso di corso di corso di corso. 那下面也加上了一些注釋 一些notes 然後在這個PowerPoint裡面的 其實提供的這些規則更詳細的更多 我就希望就先提供給你們多了一些規則 有一些比較不規則 比較有一些特例 有一些特別的情況 在複數的地方 有一些我們在課本 唯一的已經知道 這個不是普通的 Sorry 這個不是我們普通的 這個不是普通的 是因為我們在課本上就有這個 我們就是唯一的 我們已經學過的比較特別的複數 是哪一個有中印符號的 對嗎有中印符號的檔字 檔數跟複數不變 它的定管詞要變 可是它那個檔詞那個後面那個結尾不變 所以就是Cita Cita La Cita Le Cita L'Universita Le Universita Le Universita 等等等等 好不好呢 所以 這些單字就它的複數就不變 好 這個你們都OK了 都知道了 可是後來就開始補充其他的一些 比較特別的情況 要注意的一些複數的狀況 要注意的一些複數的一些複數的狀況 C 針對這個阳性隱性的 我的建議是什麼呢 你跟定管詞一起背一個新的檔字 所以我們在這裡 這個表就會改 對不起 這個是一個草稿 不要看這個 我們就這裡會加上定管詞 對對對對 La Cita Le Cita 這個是一個草稿 你們知道 我們第一個禮拜都是一個草稿 所以就基本上是每一個字 你學起來一個單詞的時候 最好是跟它的定管詞一起背 這樣子就變成比較自然一點的 我不是在要求你背起來這些字 不是我的意思 不是你要背這些單字 你們先以課本為主 課本出現的後面那個詞彙表為主 然後就常常你覺得常常用的 或者你覺得這個字就滿有用的 就自己想背就是背 OK OK 這裡就是提供給你們一些概念 關於複數的一些比較特別的狀況 好 第二個狀況 比較特殊的狀況是外來詞 外來詞 單數複數不變 這些都是從英文來的 比方說 Il Bar 它的發音 它的那個發音 還是按照義大利文的發音 不是說 我不說 Bar 不是說 Film 這個太好笑的 OK 你就如果你在義大利文就突然 你就念義大利文 然後 Oh, this is about Film Oh, so not that are Bar 太好笑的 OK 不能這樣說 不然呢 如果你念義大利文的話 這些單字 這些名字已經變了義大利文的 這些名字已經變了義大利文的 所以就是按照義大利文的發音 你要念它 所以就是 Bar 在你的 Shadowing 我在你們跟你們那個 Shadowing的部分 出現一個 Star 對嗎 我念的就是 Star 並不是說我忽略了英文的 Star 真的是 因為這是 Star 在義大利文說的 Star del Cine 不是 della Televisione 所以如果這些字已經變成 用義大利文的發音要念的 OK autobus, il bus 這裡我有一點一點 自己我也有一點 我自己也說 il bus 我不知道 可是應該是 l'autobus OK il bar, il fax, il film, il gas 等等的 Kaki 是一個日文來的 日文我來一次 lo sport OK 不要說sport OK 好 還有哪一個哪一種名詞 富庶不變呢 單音節的 一個音節的單詞 比方說 il re il re la gru la gru lo shi li shi il te il te 好不好呢 一個音節的單詞 不變 富庶不變 所以就三種名詞 只有富庶不變 哪一些呢 有重音符號 然後呢 外來詞 外來詞 然後呢 單音節的 然後呢 還有一些比較特殊的狀況 就是 平常是從希臘文來的 來自希臘文的字 比方說 l'analisi la crisi l'analisi l'analisi l'a-tési l'a-tési 這個不是希臘文 這個是德文 說實話 bring dir 可是我們是透過西班牙文 得到這個詞 禁禁 乾杯的意思 fariun brindisi brindisi 這個詞 是隱形的 它的都是隱形的 從希臘文這些詞 都是隱形的 它的 當初跟副初都沒有變 丁管次變 可是它那個結尾不變 l'analisi l'analisi l'a-crisi l'hypothisi l'hypothisi l'diagnosi l'a-tési 乾杯的這些都是這樣 那brindisi brindisi 從brindir 就是清清 就是la salute 祝你健康 帶給你健康 乾杯 這樣子 好 這些字 所以請你們就注意一下 就他們的複數就沒有變 還有一些單詞 你們常常學意大利文的外國人都會寫錯 特別是第一個問題 因為常常出現 不要說la 因為是a的結尾 可是它也是常常是從希臘文來的 好 iil problema 不是說la problema ok 因為它 它是從希臘文來的 所以是 iil problema iil problema iil panorama iil programma 他的複數是i i problemi i panorama i programmi i poeta i drama i systemi i temi i klimi i klima i klimi ok 所以是a的結尾 單數 i的結尾 複數 一樣性的 il problema un problema babe no una problema un problema 記得 il problema 好 這個情況比較複雜了一點 就是剛才我們就已經開始說了那個 kake 可是 不要怕 我不會要求你背這些單字 ok 你不用 可是這個概念開始注意一下 因為有一些 這裡真的沒有一個文權可以靠的規則 好 有酷跟勾結尾的單詞 或者形容詞 包括形容詞在這裡 ok 酷跟勾 名詞跟形容詞的 複數有時候變成從硬的讀法 酷過變成軟的讀法 變成 chi ji 有時候保持硬的讀法 ki ji 不一定 那需要單獨的就被 ok 比方說 amiko 就變成 amichi 可是longo這個形容詞長的 變成longi ok 所以有時候變成保持硬的讀法 有時候變成軟的讀法 一個小小的技巧 可是不能完全靠它 可是可以把它當作一個小小的技巧 就是人平常變chi ji的結尾 那不是人的東西 那就是平常變chi ji的結尾 ok 所以如果是amiko 那就變成amichi 對嗎 那敵人呢 nemiko nemichi 可是不是 這個已經頂樓已經不是人對不對 ok 所以你們就知道了 artico artici 可是譬如說醫生 medico medici va bene 或者 歷史學家 storico storici va bene technico technici asiatico 也寫成容詞 asiatico asiatici greco grechi theorico teorici 等等 那人類學家 antropologo antropologi psychologo psychologi 可以看到嗎 那韓學家 synologo synologi 地質學家 geologo geologi anologo anologi 等等 所以就go g 是蠻 ko qi go g 是蠻 不便的 可是有時候就想說是koki per example bako ba ki ban ko ban ki 書桌 ban ko ban ki traco traki 傑克人 那就沒有道理對不對 有一些 對呀 傑克啊 所以有時候變成ki 有時候變成ki 那盲人 traco traki一樣的翻音 可是寫法不一樣 traco traki kuwa ko kuwa ki 等等 ok 好 所以就是koko g 跟chigi 就這個比較麻煩一點的 可是amico amici 這個我要求你們背得起來 我不會要求你們就背那麼多 可是psychologo psychology 可能會背得起來吧 因為我們就 因為常常 這個是在我們的 這裡就出現那麼多次吧 對不對 在定管辭不定管辭 因為是ps 的開頭 所以就最最常用的 那那麼特別的就 當然我不會要求你那麼多 可是這些一些容詞啊 可能亞洲人你們可能會想要背起來 或者希臘人啊什麼的 一些國際的形容詞 那隱性的名詞就很簡單 因為不管怎麼樣都變kege 我們剛才說了 對嗎 所以隱性的就不用想那麼多 就ka genga的結尾 保留印的讀法 所以變成kege 所以這個就不用怕那麼多 不管是形容詞或者名詞的結尾 amika amike boka boke 有一個h在中間 奧地利人 austriaka austriake 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 水蜜桃 pesska pesske 等等 德國人怎麼說 女的德國人 tedeska tedeske 好 這裡有另外一個問題 很多的名詞這裡你們常常 所以我為什麼跟你們這個聯繫題 是因為一定在裡面有很多問題 你們可能要果然就不了解 好 比方說 如果是這樣子 yô的結尾 這個yô沒有中音的時候 或者qiu jô rthio bio bio sio sio 沒有中音的時候 這個y沒有中音的時候 它的腹數就變成 y qi g t di di yi qi Ma se non sono due motore, potre davvero dalgesiano . ImontHere? Cliccio. Baci. Calcio calci. Cambio cambi. Come pronuncia il conversation? Esercizio. Esercizi. Come pronuncia il conversation? Figlio. Fil. 看到了吗 ma non fa n' il pero no mio mio benden tattoo non si una farsa al semestre la dit avere gold il 침 Hol ma ma se non vedete il modo che il modo di avere due due Adio, Adi Dio, 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 Adi No, se lo che è fatto, se c'è anche un'acologia e lo qui hanno fatto con un'acologia no, se c'è anche un'acologia lo che che ho aggiornato una informazione è anche in particolare una cancezionare che nei più che usano che ne Kia Lingardi ci sono a chagantina l'ispo, un' 설명are l'ispo di di cremato il'ispo di Chagantina Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. va lì già, va lì già 那如果他前面有一个字音 那就不会出现这个 i 没有发音的这个 i 那就是这样写 这个是一个写法的问题 OK, arancja, arancja, pioggia, pioggia pronuncia, pronuncia, spioggia, spioggia 这个问题不要怕太多了 意大利人也会搞混 可是规则先给你们 可以参考 OK,规则就在这里 你们忘记了什么的 就可以回到这里 就看规则是怎么说的 好,就这样子 那我们现在可不可以 一起做几个联系题呢 还是我们是不是 就是把这个联系题留到明天 让你们今天下午到明天下午之前 Dao Gia Domani 从今天到明天 有没有一点时间做这个联系题 我们做第一个 然后剩下的让你们联系出来 然后看一看 这样子明天比较有概念 好吗 就明天就改几个 没有问题的地方 然后没有问题的 就给你们解答就好了 好,Porta 是原型的还是阴性的 Cosa vuol dire? Cosa significa porta? 门 好,不定管词是什么? Una 定管词 La 它的定管词加它的名字的负数呢? L'E L'E Porte OK 那你们要这样做,OK? 这个是明天你们 明天之前 做一做几个联系题 OK,有问题 明天就是检讨有问题的地方 那我们剩下的时间是不是可以做比较好玩的的地方 比较好玩的一个东西好不好 15分钟差不多 我们看电话,打电话 第三个单元 剩下的部分是打电话 请你们这些规则 请你们多看一下 比较重要的规则 我也写在这个练习题的下面,OK? 所以你们比较需要的 为了做这个练习题就在这 OK,就以这些注释 这两页比较可以练习 可以列印出来就看一看 好,Pagina Pagina Vintotto Pagina Vintotto Pagina Vintotto 保 Mitchell Giulia, come dice? Ciao, sono in treno. Non lo so. Ok, perfetto. Pronto? Giulia cosa dice? Pronto? Mauro. Mauro chi è? Chi è? Che cosa vuol dire chi è? Chi è? Mauro chi è? Mauro chi è? Mauro cosa dice? Pronto? 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 Giulia mi senti? Giulia mi senti? Sono Mauro. Sono Mauro. Giulia cosa risponde? Ciao, sono in treno. Ciao, sono in treno. Mauro cosa dice? Ciao, senti. Dove ci vediamo? Ma cosa si dice? Sì. Nello? Sì. Ho sentito da giudле. Ciao, senti. Mauro dice? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti da me? 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 Sono Mauro. Ciao, senti. Dove ci vediamo? Ma io? Come stai la legione? Credo? Va bene? Dove ci vediamo? Giulia cosa dice? Non lo so, non lo so cosa vuol dire? Pugetà, I don't know, non lo so, non lo so, io ho peci dai, ok, chan chan, che io puoi dare, non lo so. Mauro Shuo, allora, la manifestazione parte da Piazza della Repubblica, per te va bene? Cosa vuol dire la manifestazione parte dalla Repubblica? Parte vuol dire zoon ali chu fa, zoon ali kai shi. Ok, zoon là con la quarta luogna, è la piazza della Repubblica. E? Non c'è il nostro cripto? Sì, è la pagina, questo, in Roma, o in campo. Quindi la manifestazione parte da Piazza della Repubblica. Per te va bene? Cosa significa per te va bene? Ok? Giulia cosa dice? Ok, perfetto. Ok, questo è importante. Quattro B è una cosa? In italiano,接to la gente come dice? Pronto? Pronto? No, come dice la gente come dice? Pronto? Ok, ok. Eh, come dice la gente come dice la Voice? Ok, ora viat tangente dei novi come dice. Os come dice. So wei, sorry 어떻게 ho? O.k. Non careless say decide lo cu напротив questo lagso. Oh! Ok, ok. IA, WOMEN ZUO LIAN DUI MA, ZUO LIAN DUI, GEN WO ICHI HURDON. 好, ZUO LIAN DUI, GEN WO ICHI HURDON. Pronto, ciao! Fabiola? Ciao Fabiola! Il microfono dov'è? Il microfono a Fabiola. ZUO DII PAI, ZUO BEI. Ho, mi sono pronto. Pronto? 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 Ciao Fabiola, sono Antonella. Ciao Antonella, sono in aeroporto. In aeroporto. Dove ci vediamo? A piazza di Spagna. A piazza di Spagna va bene? No, mi dispiace. Come dice, non mi dispiace? Mi dispiace, non mi dispiace. Mi dispiace, non mi dispiace. Non mi dispiace, non mi dispiace. No, ma non mi dispiace. Ok? 再次, noi, volevo gioco, ok? Unrante, poi, da parte, fra le vane. Unrante, poi, da parte, da parte, da parte, da parte. D'arte, poi, da parte, da parte. Unrante, poi, da parte, da parte, da parte. non mi dispiace, è sì ok 要找到一个 哪一个规则 按照哪一个道理 老师说 non mi dispiace, è sì ok 好了 那我们就在那边约 28 夜 还有几个 几个城市 我们一起读一下 好吗 28 夜 Venecia Venecia Città turistica costruita sull'acqua costruita sull'acqua 我们刚才就是 在这个地方 还有一些城市 Venecia Città turistica costruita sull'acqua Milano Milano代表什么 centro dell'economia e degli affari Genova 是什么样子的城市呢 Città di mare Città di mare Con un importante porto commerciale Città universitaria Città universitaria Sede dell'università più antica d'Europa Roma, capitale d'Italia ricca di monumenti e di storia è il centro della religione cattolica Firenze Città d'arte Importante nel rinascimento Cos'è il rinascimento? Napoli La più importante città del sud Italia Ricca di arte e di cultura Cultura Palermo La più importante città della Sicilia La più importante città della Sicilia La più importante città della Sicilia La più importante città della Sicilia